Ecco qua, qui abbiamo una cliente del mercato di Cesena, ti chiami? Roxy Roxy, vai! Che cosa hai scelto? La borsettina offerta da Abiborse Ok, allora ti facciamo una domanda difficilissima, concentrati Se rispondi alla domanda ti porti a casa la borsettina, vai Marco! Qual è l'organo del vostro corpo che è malato se soffrite di glossite? Glosso Quindi la lingua! Brava, bravissima, bravissima, brava E hai vinto e ti porti a casa il tuo regalo, ecco, bellissimo Adesso però ti faccio una domanda, questa è una domanda facile, il regalo l'hai già vinto, quindi puoi anche sbagliare Viene bellissima Vedete che rimetto le cuffie Ecco, rimetti le cuffie Come hai fatto sapere che oggi c'era il mercato a Cesena? Perché hai guardato su Facebook Grazie, allora qui abbiamo le tue amiche Ok, allora, e voi cosa avete scelto? Questa Il vestito è offerto da Moda Positano della famiglia Colonna che loro hanno il banco d'estate a Cervia, Cesenato Ho fatto una domanda, mi raccomando è difficile perché qui se no... Mi raccomando è difficile perché qui se no... Io del sole... Ok, bravissima, ti porti a casa il vestito, domanda difficile... Ecco, che mercati ti piace frequentare? Quelli di Cesena ovviamente A posto, va bene... Adesso abbiamo la terza amica che sono venute a me, hai scelto il foulard di Petite Bijoux, qui ci sono segnati tutti, lei fa i mercati d'estate però la puoi trovare in qualche fiera, anche d'inverno c'è scritto, tu la trovi anche la fiera di Sant'Arcangelo l'11 novembre, la fiera dei vecchi... Allora, Marco, domandami a chi ci dice perché qui se no indovinano troppo bene... Con quali regioni italiane confina la Repubblica di San Marino? Una... Una l'Emilia Romagna... E l'altra? La... Le Marche... Oh che bravo... Bravo... Questa... Ma voi avete studiato tutti e tre... Ma posso farti vedere... Allora, ecco, adesso tutti e tre... Ecco, invece te che mercati ti piace Femmeria? Mi piace molto... Oltre Cesena... Eh, dai, oltre... Oltre Cesena... Cesenatico... 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 Sì, anche Cesenatico... Brava... Brava... Ormai la stagione del mare è finita per cui si pensa a Cesena... Allora, tirate su i vostri regali di Natale e grazie di essere venute al mercato perché al mercato si vince sempre! Uuuuuh... Voi, i vostri nomi li ho chiesti? Sì... No, li ho chiesti... Io, Maria Pia... Maria Pia... E Sandra... Eh, Roxy l'aveva chiesto! E Sandra... Grazie, ciao! Ciao! Allora, e qui ciao! Ti chiami? Jessica! Ciao, Jessica! Sei venuta a scegliere il tuo regalo di Natale? Sì! Cosa hai scelto? La borsa... Una bella borsa bianca! Bianca e che è offerta da Piccinini Giuseppe! Allora, ecco, che mercati ti piace frequentare? Che bancarelle hai preferite? Allora, io sono di Cesena, quindi il mercato è di Cesena, le mie bancarelle preferite sono le bancarelle d'intimo e di gioielli e orecchini. Sì! Ah, ok! Su quale isola? Concentrati! Penelope ha atteso per anni Ulisse? L'isola... non mi viene il nome, te lo giuro... Itacca, credo... Itacca! Itacca! Sì! Che bravo! È prima mattina, ragazzi! È prima mattina, ci abbiamo pensato un po', e ti aggiudichi e ti porti a casa la borsa, grazie di aver scelto il mercato! Grazie a voi! Grazie, ciao! Nome, cognome... Francesca! Francesca e Maurizio, avete scelto il vostro regalo di Natale, hai scelto la maglia di Zangoli Gabriele, che fa i mercati a Cesena, Cervia, Cesenatico e Forlì. Allora, voi siete degli abitui del mercato, venite al mercato, vero? Sì! Ok, adesso vi faccio una domanda difficile, se riuscite potete anche consultarvi, se rispondete alla domanda vi portate a casa il regalo. Allora, chi è stato lo sceriffo in Mezzogiorno di Fuoco? Gary Cooper! Lei non lo sapeva, ma lui lo sapeva! Vi ringraziamo! Che mercati vi piace frequentare, visto che ci siete? Cesena e Cervia! Cesena e Cervia! E te devi seguire, per forza! Per forza! Non puoi andare da un'altra parte! Va bene! Allora, grazie di essere venuti al mercato di Cesena! Vi portate a casa il regalo! Grazie a voi! Ciao! Non mi ci state tutte e tre nel video! Sì, se ne va, perfetto! Allora facciamo solo due! No! Tutti e tre! Bellissime! Allora, siete venuti a prendere i vostri regali di Natale! Cosa avete scelto? Con lana! Con lana della Sabina! Cintura di Fantini! E foulard di Petit Bijoux! Allora, sapete dove trovare? Me! Petit Bijoux! Cioè nel bigliettino dove la puoi trovare! Farà anche la fiera Sant'Arcangelo! E Fantini è questo qui di fronte delle cinture! Noi di! Quel bel banco di... Ok! Allora, a voi vi piace venire al mercato naturalmente? Sì! Perché siete delle abituee! Dite i vostri nomi! Angela, Daniela, Cristina Ok, che mercati vi piace frequentare? Prima domanda Tutti Tutti Girate il mondo Cesenatico 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 Allora io vado con la prima domanda Poi risponde chi Il primo che risponde va bene Poi dopo Ok In quale nazione si trova il canale di Suez? Eh, ciò vuole Egitto Vai E in aprile ti sei aggiudicata La cintura di Fanti Allora vediamo Adesso devono rispondere uno dei loro due Suggerisci che io sto attenta Qual è il romanzo di Jules Verne Con Phyllis Fogg Il giro del mondo in 80 giorni Il giro del mondo in 80 giorni E avete domenato Ti sei aggiudicata Adesso devi rispondere Solo te Sei rimasta solo te Allora Mi raccomando non suggerite No, no Suggerite Che festa è Per gli Stati Uniti d'America Il 4 luglio Il tacchino Il tacchino La festa del tacchino Dai, dai La festa del tacchino Voi avete dell'indipendenza Avetevi E vi aggiudicate Però sapevamo che era la festa del tacchino Era la festa del tacchino Grazie a tutti E portatevi a casa i vostri regali di Natale Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti